Siamo il paese più ricco del mondo, poi un po' la cultura anche napoletana, penso a Benedetto Croce, di quelli che hanno fatto i nostri ministeri rispetto alla cultura, puntando più sull'istruzione che sul patrimonio, poi Spadolini inventò il ministero dei beni culturali, ma fu un ministero povero, hanno avuto una visione idealistica per cui l'arte italiano, la cultura italiana, erano piuttosto letteratura, filosofia, naturalmente importantissime, come se il patrimonio fosse qualcosa che era quasi faticoso dover conservare. Oggi quel patrimonio va e ha visto sia rispetto alla sua capacità di attrazione, sia rispetto alla bellezza dell'Italia che era, anche soltanto nella posizione che ha dentro il Mediterraneo, una imparagonabile bellezza con qualunque altro ruolo del mondo, quindi andrebbe fatto un ragionamento di natura economica che mi ispira a immaginare una sintesi e una fusione tra il ministero dell'economia e il ministero della cultura, creando il ministero del tesoro dei beni culturali, che vuol dire essere consapevole di quel patrimonio in quanto è conservato vale, e se lo abbandoni perde valore, che è quello che tutto il mondo vede con il caso drammatico e turbativo di Pompei. Ma anche prima, quando si poteva immaginare che una città meravigliosa come Napoli avesse una specie di, prima, un po' Berlusconi e poi De Magistri si hanno fatto qualcosa, ma per almeno due anni si è parlato solo di immondizia, cioè se tu vuoi andare a noi, alle Maldive c'è solo immondizia e non ci va più, cioè si è fatta un'azione autolesionistica, oltre che sbagliata nel difetto di pulizia e in tanti limiti posti anche rispetto agli inseneritori, dicendo non andarci, tu hai un posto bellissimo, la gente non ci va, le chiese sono chiuse, c'è solo l'immondizia per strada. Una cosa come questa non sai come giudicarla, ma dal momento che è avvenuta prova scarso senso civico nei cittadini che quell'immondizia producono, scarsa capacità di reazione da parte dello Stato e quindi una serie di dati che fanno sì che la città più bella, quasi una delle più belle città d'Italia, sia senza turismo. Poi la gente magari va a Capri, dove fortunatamente c'è un'accoglienza legata alla bellezza che produce, credo che Capri abbia dato la prova che la bellezza può produrre reddito, non è vero che con la cultura non si mangia. Io che sono stato sindaco di Salemi sono rimpianto, e forse tornerò a farlo, perché non avendo soldi ma idee ho reso quel paese sperduto del mondo un luogo di cui tutti parlavano, in cui ci si andava. Quindi vuol dire che 100 sindaci in Italia potrebbero essere 100 motori di curiosità e di attenzione, per cui il dato esiste. Poi l'Italia abbia un difetto nel suo eccesso di bellezza è un altro problema, perché io credo che noi potremmo, da quelli che abbiamo, che saranno 20 o 30 siti che tutti devono conoscere nel mondo, credo che ne potremmo avere 1000, su 8000 comuni ci sono almeno 1000 comuni, e naturalmente già una quantità di 1000 comuni fa sì che la capacità di promozione e di attrazione sia limitata, ma potrebbe essere però, sia limitata, sia difficile, potrebbe essere però una fisica di concorrenza, per cui tu vieni a Ischia, no, vieni a Capri, no, vieni a Ostuni, cioè un'offerta così ampia da potenziare di molto il turismo in Italia in assenza del Ministero. Da questo fa capire, c'è un referendum di quel poverino di Pannella che elimina il Ministero del Turismo, è una cosa di pazzi, ma com'è possibile? L'Italia non ha il Ministero del Turismo, ce l'ha il Congo, ce l'ha, non so, quindi certo che abbiamo vissuto 50 anni di molta miopia, facile accusare, ma è vero che io facevo vedere in una rivista tanti anni fa un articolo di Vertone che mostrava la casa di Demita a Nusco, ora le case che noi immaginiamo hanno il tetto fatto così, la casa di Demita se l'aveva fatto così, già si capiva che c'era una perversione, poi povero Demita, ma un luogo di meravigliosa bellezza e di architettura ha un'architettura moderna del primo ministro che è un cesso, se uno vive in un cesso non potrà produrre, mi dispiace, magari mi sentirà, scusi, scusa vecchio siriaco, però la casa gridava vendetta, se quelli che amministrano abitano in un cesso di casa, vuole dire che non capiranno bene cos'è la bellezza, se Agnelli non conosceva Piero della Francesca, uno dice, non so, questo è uno degli uomini più potenti del mondo, più ricco d'Italia e muore senza vederlo, vuol dire che c'è una certa sottostima. Professore, a proposito dell'Irpinia, che è un bellissimo tesoro d'Italia, non conosciuto, tante le assurazioni che sono venute qui a parlare con lei, a porre una serie di problemi, lei ha detto per la dogana di Avellino, mi impegnerò, parlerò con il ministro Franceschi. Quello che posso fare, quando ho fatto il segretario potevo agire, sottostima, come persona nota e ascoltata posso parlare. È vero che il posto era particolarmente brutto, ma l'accoglienza è stata molto generosa e molto bella e mi ha colpito che invece di sentire l'ipsedixit di una persona che parla, gli hanno posto dei problemi e io ho preso nota. Quindi, d'altra parte, io sono uno, come sempre, anticonformista, sono uno dei pochi che crede al valore del voto di scambio, che non va confuso con il voto di scambio mafioso. Cioè, tu prendi il voto e gli do un posto. No, il voto di scambio è che io voglio controllare il mio deputato, qui do un mandato e non è che mi deve fare un favore, ma che concorsi ci sono, cosa posso fare. Cioè, altrimenti che cazzo fai? Il deputato che cos'è? Se non è rappresentante di qualcuno? Da molti anni non c'è più. Ora, il voto di scambio, inteso in senso positivo, non vuol dire prendere il voto in cambio di danaro, fare dei favori, le assunzioni, gli statali. Vorrebbe dire che tu sai che c'è qualcuno, poi puoi dire che esiste un problema e lui tenterà di fare il collegamento per risolverlo.